Desideri un corpo scolpito Stanco di estenuanti esercizi fisici. Senza ottenere risultati. Ora basta. La soluzione oggi è. My, Body, Tone. Un prodotto laser punto com. Due manipoli speciali. Combinati con programmi preimpostati. Permettono di trattare. Addome. Braccia. Glutei. Cosce. Ginocchia. Effetto contrazione immediato. My Body Tone stimola maggiormente la contrazione muscolare aumentando il metabolismo, riduzione adipe 19%, aumento muscolare 16%, aumento della massa muscolare, con conseguente riduzione del volume degli adipociti. Effetti fisiologici. Cellule adipose a riposo. Aumento dellattività metabolica. Riduzione dei volumi. Lisi degli adipociti. Risultati evidenti. Effetto palestra. Per un corpo scolpito. La soluzione oggi è. My, Body, Tone. Sicuro. Efficace. Indolore. Risultati immediati. Dottore Salvatore Ferrari Ruffino. Padova Mestre Chioggia. Telefono 349 530 9261. Per un corpo scolpito.